BANDA Che bello rivedervi L'ideale sarebbe stato non rivedervi nudi però questo è l'unico posto, purtroppo, dove possiamo eludere il divieto del magistrato. Abbiamo poco tempo, quindi vado subito al punto. Pietro, abbi pazienza, eh. Ma ogni quanto ci dobbiamo sorbire questo discorso motivazionale? Sì, lo so, lo so. Le cose non sono andate esattamente come ci aspettavamo. Direi proprio di no. Dovevamo avere la fedina penale pulita. Invece guarda dove siamo, eh. Ecco, dove siamo finiti? Ragazzi, voi siete le migliori menti in circolazione. No, 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 Pietro, perdonami. Ti pregherei di non ricominciare con questa storia delle migliori menti in circolazione perché se ci sono due parole che vorrei non sentire mai più in vita mia sono proprio migliori menti in circolazione che poi sono quattro, sono quattro. Va bene, va bene. So chi ha fatto Sopox. No, aspetta, che vuol dire so chi ha fatto Sopox? Adesso ce lo dici? Noi non le ti patteggiamo. Non ci sarà nessun patteggiamento perché noi domenica sera saremo fuori di qua. E vadiamo dare Bibbia.